NO! NO! Eh, ma questo non ci vede niente, qua... Ma no, che fastidio... Ah, di qua, di qua. Adesso è la G7. Eh, ma no, qua da dove sei venuto? Eh, io qua devo venire, scusami. Devi andare sott'acqua, forse? Eh. Ah, che prima l'acqua non ci potevi andare, ma sì, invece. Eh, non potevo andarci in sicurezza prima, ma invece ci posso andare in sicurezza, capito? Super sicurezza. Ah, perché prima c'era il veneno. Ah, vedi, il livello dell'acqua si è abbassato. Ok. Sì, ma ancora che sta cagato così addosso, non c'è niente qua. Vabbè. Fogna. Ok. Henry Bedlow. Andrò in classe portando la rabbia della sua rigida madre. Non aveva mai pianto, ma faceva piangere gli altri. Quello è il dolore. O diventi triste o diventi arrabbiato. Henry ha sempre scelto l'ultimo. Va bene. Ah, finalmente... ... 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